Il blu e il verde sono i colori del Grand Hotel Miramare, una struttura ospitata in un palazzo in stile Liberty che sarà lo scenario di un elegante convivio nuziale da festeggiare tra il mare della riviera Ligure e il grande parco dell'hotel. Inserita in uno splendido contesto paesaggistico, la struttura comprende spazi interni ed esterni eleganti e funzionali, nei quali potrete dare avvio alla giornata con la celebrazione di una romantica cerimonia di nozze vista a mare. Per l'allestimento del banchetto, il ristorante dispone di sale spaziose, arredate con cura e illuminate da grandi vetrate che aprono la vista all'ambiente circostante. All'esterno, il parco con il suo giardino potrà essere utilizzato per mise en place di banchetti e di ricchi buffet nelle stagioni più calde dell'anno. La struttura mette a disposizione di voi sposi la professionalità del suo personale che si occuperà della cura degli allestimenti e di riservare una calorosa accoglienza a voi e ai vostri invitati che verrete seguiti e coccolati per l'intera giornata. Gli chef del ristorante Le Bougainville, inoltre, sono pronti a preparare per voi delle ghiotte specialità che sapranno deliziare anche il palato più esigente. Dotato di numerose camere, tra cui suite e junior suite, e di un centro benessere, il Grand Hotel Miramare sarà lieto di ospitarvi per la vostra prima notte di nozze, garantendo un finale rilassante e romantico alla vostra giornata. Grazie a tutti!